Salve a tutti, buonasera, eccoci noi qua in un nuovo video dove siamo in sanatorium come al soldo, gioca sempre Red Wolf e io sono Alexio, e l'altro tempo che non ci giochiamo perciò questo Red Wolf è un po' rincoglionico, adesso si sentirà abbastanza bene perché entrambi abbiamo le cuffie, perciò ci viviamo sotto vicenda, però non stiamo in una stanza buia purtroppo, ma così pare un po' brutto, questo fa così, ne sa che il massimo, vabbè ormai Red Wolf si ricorda tutto a memoria, sono campione di sto gioco, sono campione, volevo provare, volevo provare il nuovo slime del numero, però è sul PC, questo qua allarga, perciò non mi chiede, no? Non è capace, no, non è capace, non manco deve capire, manco entrare nella stanza, vedi che c'è scritto, prendi la mia ragazza e ora vieni con me, ho già incomincio, questo è il leone dei Narnia, come si chiama? C'è un cazzo? Io sento un cazzo, a me lo sento, è tutta la musica, oh, che è Red Wolf tra le cuffie, quelle, non l'esterno sono fatte a un orecchio porco dio la madonna corri ma maiuscolo corri sono saltato non sono più abituato comunque c'è tua ma che cosa la madonna e poi c'è il ciccio e corri si è il muro c'è una pippa c'è una pippa questo qua va davanti si c'è una pippa va bene va ma rifammo che si può eh ma gioca a demo ma io che gioco sotto vai gioca gioca ma perchè io gioca io gioca dai sempre io spaccato vino ti lascerò che cazzo sta spaccato ahia e neanche l'ho cominciato ah all'inizio era la sigla questa inizia niente sempre niente sempre dai mannaggia cristo niente niente e aspetta ah non mi spegna la luce però pesa di pasta ma ci siamo abituati non scappare non scappare non scappare chi scappa è andata la roccia sottraccia t ah 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 ti risposto ti risposto ti risposto mi sa asciugare le mani non ti incollare non ti sa asciugare le mani il cazzo non corre troppo che da poi non lo sapevo non lo sapevo non lo sapevo adesso lo sai non si fa così non ci fa così guarda eh che scatto ti rendo guarda che sono stessi dov'è per dare così fai un legare la gente però no oh cristo santo no 8 e ce l'è mai arrivata si a 7 se l'è mai arrivata eh 8 e io 8 8 non è possibile muori per ovvio guarda lo scatto ma sai perché mi è morto subito no questo non si ha fatto il giro no perchè e immagino ha preso tutte le corse e ha preso subito tutte si pure adesso si sta a prendere le corse è buono se lo mettiamo ora subito un'altra volta è il muro guarda l'altro è incollato il muro a me piace fuck you fuck you fuck you ma qua ci vado c'hanno più c'hanno più tiri qua stiamo sparendo spariando strana qua ci sono andate urima non lo so non lo so non l'è una stanza io l'è una stanza io l'è una stanza non l'è una stanza non ci ha la papa eppure fa sacrazio della vagina guarda scattentino guarda scattino guarda scattino guarda scattino guarda maschè fra poco Scusa, questa musica è una fastidia. Così già voleva, sennò non fa paura. Quale stava? Non lo so, non credo. Non c'è stato, vai avanti. Basta! Non correre! C'è un po' qua c'è stato. Io mi devo girare per forza qua, capito? Qualsetto! Chi è? Era sempre lo stesso! Ma torna! Non era così prima? Era così vera! No, non era così! Consigliari! Ho paura! Mi sento un cazzo con la giovanna donna! Ma scoppia tutto! Guarda i cervelli! Ma batte tutto! Guarda la ruffia! Mi sento un cazzo! Entra! Ah, giù! Ah, in fondo! Non c'è un po' l'è! Cazzo! E' un po' lì! E' un po' lì! Che sei fatto qua? Ma non è vero! Si porco dio! Non mi segnali! Perché? Così! Ma adesso avrò se ho staccato le cuffie! Dovete veder, dovi vederla, faccio vedere... Ma non c'è il Papa Nobu! Ho fatto male! Ma io mi sono andato in panni! Ma che cazzo è il sole? Ho fatto male! Oddio! vabbè ragazzi, questo video si prese di tutto ma poi sarà messo ma non è una capocciata l'ho nascoreggiato l'ho nascoreggiato l'ho nascoreggiato mamma l'ho nascoreggiato e beh ragazzi se vi è piaciuto il video, questo video è stato molto corto affraga e ci vediamo al prossimo video mettete mi piace condividere a tutto il mondo e un saluto a tutti